Comincio dal senatore Richieri, che succede? Allora, con la Francia il Premier fa il Premier e cerca, diciamo, di far sì che i toni siano più distesi, no? E intanto si apre anche il fronte della Germania, non dimenticando che ieri Francia e Germania hanno siglatato un nuovo patto, un nuovo asse, che credo debba fare molto riflettere, no? Su che cosa è l'Europa e dove sta andando l'Europa, o no? Io direi che questa è la riflessione che dovrebbe occuparci più di tutto, perché siamo davanti ad un accordo, io non so se avete letto i contenuti, i contenuti sono davvero molto, molto, molto forti, c'è veramente una sorta di sacro romano impero, no? Poi a Quixgrana credo che non sia una sede occasionale. Lo sappiamo, c'è in atto uno scontro in Europa, da una parte c'è un pensiero riformista che vorrebbe rivedere gli assetti istituzionali, meccanismi di governance che abbiamo conosciuto fino ad oggi, che abbiamo conosciuto fino ad oggi, dei quali abbiamo decretato il fallimento, le assimetrie economiche ci sono, ci sono tra Paesi membri, ci sono all'interno dei Paesi membri, abbiamo abbracciato la filosofia del neoliberismo, abbiamo rinunciato ai diritti sociali e economici dei lavoratori, abbiamo cancellato tutte quelle che erano delle prerogative che avevamo faticosamente conquistato in 50 anni di battaglie civili, adesso siamo ad un appuntamento storico, epocale, dobbiamo cercare di non sbagliare. Dall'altra parte c'è una forza reazionaria, conservatrice, che sembra più impegnata a sbarrare il passo, ecco l'accordo di Quixgrana, sembra più impegnata a sbarrare il passo a qualunque tipo di progetto di riforma perché ci possa essere un'Europa che finalmente possa davvero compensare questi squilibri, che finalmente possa eliminare queste disuguaglianze sociali, che finalmente possa portare quei valori sociali e di solidarietà sociale che fino ad oggi non ci sono stati. Allora, io mi ero soffermato su due elementi che sono gli elementi della polemica, parliamo oggi chiaro, al di là delle ricostruzioni legittime, storiche, eccetera. Si dice che la Francia in questo modo dà una mano all'eso dei migranti e dall'altro punto di vista, quello a cui accennavo prima, tentavo di rilevarlo, la Francia si porta in pancia nelle proprie casse, nelle casse del Stato francese, circa, io ho letto, 10 miliardi. Sono riserve depositate presso la Banca di Francia, però questi depositi sono remunerati ad un tasso superiore a quello di mercato e la Banca di Francia non può utilizzare queste risorse per finanziare il tesoro francese. Ecco, così intanto ci capiamo, no? Ecco, tanto per capirci, proprio tanto per capirci, quando uno di questi 14 paesi esporta verso un paese diverso dalla Francia, è in cassa in euro e in dollari, il 50% di quell'incasso deve essere trasferito a Parigi. È vero quello che dice Mingardi, che quando tu leghi la moneta all'euro è chiaro che la metti al riparo da crisi inflazionistiche, ma è anche vero che i beni che produci in quei paesi, siccome hanno un prezzo ancorato all'euro, sono completamente, lo diceva anche il professor Mingardi, sono completamente fuori dall'export, perché pagano naturalmente il fatto di avere un prezzo superiore a quegli stessi beni prodotti dei paesi circostanti. Tanto che, questo è il dato che importa, non quanti migranti stanno arrivando nei barconi da quei 14 paesi, sono i tassi di crescita di quei paesi, che sono nettamente inferiori rispetto ai tassi di crescita dei paesi circostanti. E non può che essere così, ma il professor Mingardi diceva anche che c'è un problema di materie prime, ma sapete che c'è il cosiddetto principio del primo diritto, cioè la Francia ha il diritto di prelazione ad acquistare le materie prime da parte di questi 14 paesi, cioè significa che questi 14 paesi non possono vendere le loro materie prime se prima non chiedono alla Francia se desiderano acquistare. E l'operazione commerciale è possibile solo quando arriva la cosiddetta dichiarazione di non gradimento francese. Ma se non è dominio, se non è dominio monetario, se non è dominio economico questo, che cosa può essere il concetto di dominio economico? Ecco perché il fenomeno migratorio deve essere guardato alla radice, perché se noi non la smettiamo, mi è stato detto, è ma da 70 anni che dura questo accordo, il Bretton-Wuze, è il fatto che sia durato 70 anni. Non è un ulteriore aggravante per far sì che in questo momento in cui sta cambiando un'epoca possano cambiare anche queste ingiustizie sociali. Allora, lei è stato molto chiaro. Io quello che voglio dire, tutto questo è nei fatti, diciamo così. E lei giustamente, anche in maniera appassionata, lo denuncia come hanno fatto i leader del suo partito. Però molti si chiedono, benissimo, questo è un problema reale che l'Europa tutta dovrebbe affrontare. La domanda è, sono i toni di Di Maio, di Di Battista, cioè si possono affrontare in questo modo, in piena campagna elettorale per le europee questi temi o forse bisognerebbe affrontarli in maniera diversa, no? Parlandosi tra paesi diversi del Club Europa, poi nel nuovo assetto magari che scaturirà dal voto ovviamente del 26 maggio, no? Questo è un altro degli elementi. Perdoni, col trattato di Acquisgrana c'è un messaggio politico chiaro, è che questi temi, e così rispondo al suo interrogativo, non si possono trattare. Capisce, Pacano? Cioè questi temi è vietato trattarli, è vietato parlarne, tanto che io sono sicuro che più della metà delle persone che ci ascoltano stamattina da casa non sapevano di questo fatto che la Francia battesse moneta nonostante ci sia fatto di vieto ai paesi membri dell'Unione Europea di stampare moneta. Io sono sicuro che a casa questo fatto non lo sapevano. Allora, ai centri per l'impiego, insomma tutte le difficoltà ai centri per l'impiego, noi ne abbiamo parlato moltissimo qui a Coffee Break, le conosciamo, il governo le conosce, tanto che appunto c'è l'annuncio di quanti sono? 6.000 navigator, senatore? 10.000, più o meno? 10.000, 8.000, insomma quello a seconda di quali saranno le esigenze che i centri per l'impiego e le agenzie poi ci segnaleranno. Il dubbio maggiore riguarda se c'è tutto questo lavoro in Italia, le chiedo una risposta breve perché vorrei fare un'ultima domanda. La risposta è che i cittadini non trovano il lavoro perché ci sono nuovi lavori e ci sono nuovi lavori che non trovano i cittadini. La rivoluzione del reddito i 5 stelle non è solo quello di assicurare un'esistenza libera e dignitosa ad ogni cittadino, che è quello che dice l'articolo 36 e che la sinistra purtroppo ha dimenticato. La rivoluzione sta nel fatto che noi contrasteremo la povertà dando soldi alle famiglie, investendo sulle persone, cioè accompagnandole verso un percorso di formazione fino alla porta dell'impresa, quell'impresa che sta cercando quella figura professionale. Stiamo abbandonando 50 anni di assistenzialismo fino a se stesso, cioè le file e gli scontelli dove si prendeva il sussidio e poi gli si diceva ci vediamo il prossimo mese e ritornava nel divano. Adesso prendono il reddito di cittadinanza ma entrano dentro un circuito virtuoso, un circuito che porta soldi che vanno nell'economia vera. Questa è una grande scommessa? No, questo è un atto doveroso per uno Stato sociale, quello di portare il cittadino verso il lavoro e non piangere come abbiamo fatto in tutti questi anni dicendo non c'è lavoro, non c'è lavoro, chiarissimo, in questa maniera siamo scesi ultimi nella classifica della crescita su 27 paesi, siamo il 27esimo paese, questo è il paese che noi abbiamo ereditato.